Amici di Passione Tennis, come ieri sera siamo in modalità super ultra veloce, solo per dirvi che Jannik Sinner batte anche Bravrinka allo svizzero classe 85 a rientro diciamo in buone condizioni, ormai quasi vicino a rientrare fra i primi 100 giocatori del mondo, quindi una condizione comunque buona l'ho visto comunque in una buona condizione in questa partita, ma Jannik è attualmente molto superiore, infatti è finita subito se uno se tre ricordo che Jannik Sinner e Bravrinka si sono incontrati per la prima volta, la prima volta che Jannik è entrato in un tabellone principale di un torneo dello Slam agli US Open Bravrinka vinse perdendo un solo set dal giovanissimo Sinner però mi ricordo che a fine partita lo svizzero lo applaudì, evidentemente aveva capito anche lui che questo giocatore italiano era destinato a fare grandi cose, infatti i due si allenano spesso insieme a Monte Carlo, comunque in giro per il circuito, sono ottimi amici, quindi va bene così ora Sinner affronterà un olandese, perché adesso c'è il derby olandese nell'altro quarto di finale, quindi diciamo che sulla carta nessuno dei due olandesi dovrebbe impensierire Sinner però giocano in casa, comunque un giocatore che arrivi in semifinale è comunque un giocatore caldo, un giocatore che è in fiducia e non ha nulla da perdere quindi comunque sarà una semifinale difficile, anche se sulla carta Sinner dovrebbe vincere abbastanza agevolmente chiunque sia il prossimo avversario e quindi dovrebbe in teoria avere già un piede e mezzo in finale, ma sappiamo che nel tennis tutto può succedere, nulla è deciso, quindi speriamo che anche domani Sinner faccia un'ottima partita e quindi ci ritroveremmo Sinner alla seconda finale consecutiva, la prima l'ha vinta quella di settimana scorsa, un 250, questo un 500, quindi sarebbe ancora più importante eventualmente Sinner arrivasse in finale, secondo me troverebbe uno fra il russo Medvedev e il canadese Roger Aliasim ricordiamo che Sinner ha battuto qui la testa di serie numero uno Tsitsipas, nonché numero tre del mondo, al secondo turno riprendendosi la rivincita quindi della sconfitta di quest'anno degli Australian Open, finita al quinto set qualcuno dice sì ma voglio vedere quando Sinner sconfiggerà uno fortissimo negli slam, abbiate fede perché è state calmi, state calmini voi dei trattori di Sinner guarda io ho sbagliato, guardate io ho sbagliato a non fare lo screenshot di alcune frasi che ho visto nei vari social di alcuni dei trattori di Sinner alla fine dello scorso anno che dicevano che Sinner era un bluff, che era sopravvalutato addirittura, ecco sopravvalutato e insomma che non avrebbe combinato niente, insomma se qui tutto va bene Sinner rischia di fare due finali consecutive se tutto andasse estremamente bene in due settimane Sinner si porterebbe a casa 750 punti un torneo 250 più un torneo 500 consecutivi e già ad oggi è salito due posizioni con la vittoria Giaco Tsitsipas quindi da 14 è andato al dodicesimo quindi si avvicinerebbe ancora di più alla decima posizione quindi al ritorno fra i top 10 quindi io per oggi ho detto tutto l'altra cosa da dire sarebbe sempre a livello ATP nel 250 di Buenos Aires che le partite sono ferme perché avrebbe dovuto giocare anche Musetti contro Varillas ma per pioggia sono tutte bloccate comunque bella, apro parentesi su Musetti ieri bella prestazione contro un giocatore di casa Kakin ha vinto una bella partita, ho visto alcune ispezioni della partita come sempre Musetti ha fatto delle giocate eccezionali da mago e quindi abbiamo questi due giovani che stanno giocando molto bene a livello ATP uno gioca molto meglio sul veloce, uno più sulla terra abbattuta quindi io la mia speranza è che Sinner ci regali queste soddisfazioni che già ho detto nei precedenti video e che si stia costruendo una bella squadra per la Coppa Davis chissà che quest'anno non possa essere finalmente la volta buona noi italiani incrociamo le dita bene detto questo il video l'ho fatto anche più lungo del dovuto secondo me era giusto per condividere con voi la gioia di questo Sinner che ci sta dando queste soddisfazioni alla faccia dei gufi e niente, vi ricordo sempre per sostenere questa tipologia di video iscrizione al canale, lasciate like, commentate ci vediamo a un prossimo video, ciao!